Bentornati qui sul canale Gioco Troppo Poco Vi ricordo che questa sera alle 9 e mezza su Twitch Ci sarà la live Dark Souls 2 Proveremo di nuovo ad affrontare il demone della forza Voi alzerete le mani al cielo e mi darete la vostra forza Ce la faremo Anche perché subito dopo c'è la nebbia Con i cavalieri invisibili Credo Bene, ci vediamo stasera ragazzi 9 e mezza su Twitch In descrizione trovate il link del canale